Musica Niro e frattura sulla lista dei neofascisti nella nota sequestrata dai ROS l'appunto Presidente Regione Molise, Presidente Consiglio Molise minacce anche all'Abruzzese e chiodi al Governatore delle Marche Legge sull'editoria, incontro in prefettura oggi a Campobasso gli editori delle TV che hanno scioperato venerdì scorso ricevuti dal prefetto Francesco Paolo Di Menna solleciterà un vertice per modifiche al testo Traballa l'accordo tra il senatore e il presidente saltata la conferenza stampa tra ruta e frattura per la verifica dei punti l'intesa politica passa dalla soluzione dei problemi Traffico in tilt per i lavori alla rotonda Isernia, caos in città nella zona di corso risorgimento commercianti inferociti per la concomitanza con gli ultimi acquisti di Natale Tifosi e squadra per il brindisi rosso-blu ultime sedute di allenamento prima della sosta si torna in campo il 4 gennaio oggi a Campobasso in programma gli auguri tra calciatori e supporter Buongiorno dalla redazione di Telemolisi al presidente del consiglio regionale del Molise al governatore del Molise con loro vengono segnalati i presidenti e i governatori delle regioni Marche e Abruzzo per quest'ultima il riferimento sarebbe all'ex governatore Chiodi mentre non è chiaro se tra gli obiettivi dei terroristi ci siano stati anche i nomi di Niro e Frattura entrambi gli interessati non sapevano dell'esistenza di questa lista mentre da qualche mese Gianni Chiodi era invece stato messo sotto scorta e adesso parliamo della legge per l'editoria dopo lo sciopero delle tv della settimana scorsa stamattina gli editori delle televisioni private sono stati ricevuti dal prefetto di Campobasso vediamo com'è andata con Tonino Danese Una legge iniqua, confusa, inutile che non tiene conto delle esigenze di un settore già fortemente penalizzato dalla crisi così gli editori delle emittenti private locali e giornalisti hanno definito la legge varata dalla quarta commissione regionale che nelle intenzioni dovrebbe approdare a Palazzo Moffa nei prossimi giorni editori che hanno ribadito anche al prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna che li ha incontrati a Palazzo di Governo le ragioni dello sciopero attuato il perché i giornalisti di Telemolise e Teleregione e TLT si sono imbavagliati durante i telegiornali dello scorso venerdì una legge hanno spiegato al prefetto che non tiene conto di quelle che sono state le nostre proposte al contrario di quanto affermato dal presidente Frattura quella varata è una legge che hanno aggiunto lascia fuori settori trainanti del mondo dell'informazione realtà storicamente consolidate aziende con decine di dipendenti regolarmente assunti e con importanti margini di sviluppo e di nuova occupazione se solo fossero sostenute con misure economiche chiare e interventi efficaci una legge è stata evidenziata ancora che con vincoli e costrizioni illiberali penalizza proprio le principali realtà editoriali quelle che hanno rispettato le regole Di Menna ha ascoltato quanto detto e si è impegnato a inviare una nota al governatore Frattura affinché riapra il confronto con gli editori per rivedere la legge prima che approdi in consiglio regionale e affinché si tenga realmente conto delle esigenze di tutti coloro che fanno parte del settore a questo punto la discussione in aula potrebbe essere bloccata A dieci anni di distanza dall'istituzione l'ordine dei giornalisti del Molise insieme all'associazione degli ex consiglieri regionali promuove un dibattito sull'identità del territorio sulle autonomie e sul decentramento l'incontro si terrà lunedì prossimo 29 dicembre nella sala della Costituzione a Campobasso la creazione dell'ordine con decreto del Presidente della Repubblica che lo separò dal Lazio ricorda una nota dell'ODG San Cil epilogo del processo autonomistico molisano iniziato molti anni prima con l'autonomia regionale adesso la politica traballa l'intesa tra il Governatore Frattura e il Senatore Roberto Ruta con il conseguente rinvio della conferenza stampa che era prevista per ieri eccessivo peso della sanità privata avvertenze di lavoro irrisolte sono i punti dolenti sottolineati dal Senatore il servizio di Giovanni Minicozzi Non si sono verificate le condizioni previste nei dieci punti programmatici e per questo è stata rinviata la conferenza stampa prevista con Paolo Frattura non ha usato mezzi termini il Senatore del PD Roberto Ruta per dire che il Governo regionale non ha rispettato gli impegni assunti in particolare le tante vertenze di lavoro ancora aperte che dovevano essere chiuse entro il 22 dicembre ITR, Zuccherificio, Precari della Protezione Civile Molise Dati, Formazione Professionale Esattorie e chi più ne ha più ne metta uno spiraglio invece si è aperto per la GAM con l'interesse manifestato da Aria Food e dall'imprenditore Diego Volpe Pasini che si è aggiudicato l'asta ed ha acquistato il marchio Pollo Arena dal Tribunale di Campobasso ma la condizione dei lavoratori resta ancora in bilico per il resto esiste solo una situazione produttiva e occupazionale sempre più collassata altro punto di forte contrasto tra il Governatore Frattura e Roberto Ruta riguarda la sanità troppo squilibrata in favore delle strutture accreditate ha tuonato il Senatore che aveva imposto al massimo il 25% in favore delle gestioni private naturalmente il recente accreditamento della struttura Pavone Neuromed di Salcito con 60 posti letto destinati alla riabilitazione ha accentuato ulteriormente lo squilibrio altro elemento che ha fatto inclinare i rapporti tra Frattura e Ruta è stata la nomina di Riccardo Tamburro responsabile per l'applicazione dei piani operativi della sanità ma secondo i ben informati il Governatore avrebbe smentito tale circostanza a dire il vero Roberto Ruta non ha chiuso la porta in faccia a Frattura ma ha rinviato di comune accordo la conferenza stampa al prossimo 30 dicembre qualora ha detto si verificassero le condizioni richieste appare improbabile però che tutti i guai del Morise si risolvano in tre giorni con l'arrivo di Gesù Bambino e adesso parliamo della questione dei precari della protezione civile c'è stato un nuovo sit-in di protesta stamattina davanti alla sede dell'Agenzia regionale a Campobasso i precari accompagnati dai sindacati chiedono un incontro per discutere della loro situazione per questo hanno deciso di protestare nella seduta del Consiglio regionale di venerdì ricordano è stato approvato l'assestamento di bilancio nel quale sono state previste le risorse necessarie per la ricontrattualizzazione per tre mesi dei 100 precari vincitori di concorso che dal 31 gennaio sono senza lavoro ora precari e sindacati chiedono dunque questo incontro urgente e protestano, andiamo adesso a Miranda gli imprenditori che hanno avviato un'attività nell'area degli insediamenti produttivi del Paese molti infatti hanno deciso di non pagare la Tasi perché dicono i servizi sono quasi del tutto inesistenti sul posto è andato per noi Sergio Di Vincenzo l'area degli insediamenti produttivi di Milanda in località Acquaro per i navigatori satellitari non esiste e a quanto pare neanche per il comune alle porte di Sernia lo denunciano coloro che hanno avviato un'attività in questa area PIP lamentano la mancanza di servizi dalla fognatura alla DSL dalla segnaletica all'illuminazione solo per citarne alcuni per questo molti di loro hanno deciso di attuare una singolare forma di protesta non pagare la Tasi almeno fino a quando questa zona non sarà servita a dovere non c'è nessuna tabella, nessuna indicazione non abbiamo i servizi l'acqua ci hanno comunicato da qualche mese che non è più potabile non abbiamo la fognatura, non abbiamo illuminazione, niente quindi ci sembra giusto non pagarla almeno per il momento non è che non la vogliamo pagare questo lo vogliamo chiarire perché noi tutti quanti vogliamo pagarla però in compenso vogliamo comunque tutti i servizi che ci spettano sappiamo bene le sanzioni a cui andiamo incontro però vogliamo far valere i nostri diritti appunto perché la Tasi sappiamo benissimo sono servizi indivisibili e che servizi non abbiamo qualcuno ha ovviato all'assenza della segnaletica facendo stampare dei volantini pur di farsi trovare dai clienti ma è solo un palliativo i problemi restano compreso quello della sicurezza dopo il tramonto non essendoci un'illuminazione pubblica qui è diventato un ritrovo diciamo così per servizi non leciti questo ci preoccupa tantissimo perché la mancanza di sicurezza fa sì che poi i nostri clienti non ci vengano a trovare questo è un danno all'immagine delle nostre aziende per sollecitare un intervento del comune gli imprenditori si sono anche rivolti a un legale c'è carenza di tutti i servizi iniziali dal verde pubblico l'immondizia addirittura l'ingresso c'è gente che non sa neanche dove si trova nell'area PIP di Miranda nonostante tutte le promesse fatte dall'amministrazione finora purtroppo i fatti sono stati diversi rispetto alle promesse che non sono state mantenute quindi abbiamo diffidato il comune a quantomeno un incontro urgente per quanto riguarda il pagamento purtroppo il pagamento delle tasse e dei servizi va fatto e sicuramente inviterò i miei clienti a farlo e dopo li recupereremo contro il comune di Miranda è stato inaugurato l'ultimo tratto del sesto macro lotto della nuova autostrada A3 circa 4 km in careggiata a sud tra lo svincolo di Scilla e quello di Campo Calabro vedete le immagini su questo importante segmento della Salerno Reggio Calabria che segna la fine dell'epoca in cui l'arteria era considerata una delle grandi incompiute d'Italia c'è la firma dell'azienda molisana europea 92 Marciano Ricci era presente alla cerimonia di Villa San Giovanni con il governatore della Calabria Mario Oliverio il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci i cantieri della A3 avviati dopo la legge obiettivo ha detto quest'ultimo sono stati sostanzialmente completati ora abbiamo 355 km di nuova autostrada una soddisfazione importante per la molisana europea 92 che dunque si conferma leader nel settore delle grandi opere e che si appresta a chiudere il 2014 festeggiando anche il debutto nella classifica delle prime 50 imprese di costruzione in Italia stilata qualche settimana fa dal sole 24 ore la SPA si è piazzata infatti al quarantesimo posto forte di un portafoglio ordini in crescita e per un terzo all'estero adesso andiamo all'Isernia dove il traffico è impazzito in queste ore i commercianti sono sul piede di guerra per i lavori alla rotonda di corso risorgimento protestano per la tempistica quei lavori non dovevano essere fatti nelle ore che precedono il Natale il servizio di Enzo Di Gaetano Isernia in tilt per colpa di chi ha avuto l'idea di far completare i lavori della rotonda di corso risorgimento in pieno periodo natalizio automobilisti infuriati, code chilometriche e commercianti col dente avvelenato per l'assurda tempistica praticamente dal periodo natalizio dall'8 di dicembre ma anche da qualche periodo un po' più in là hanno iniziato dei lavori senza neanche mettere al corrente i titolari o i proprietari delle attività il primo danno che è stato fatto è stato quello che hanno praticamente tolto i pochi parcheggi che avevamo e la possibilità che i clienti potessero almeno approfittarne per qualche minuto per quanto riguarda la nostra attività gli incassi sono abbastanza calati e la cosa più assurda è che i lavori a un certo punto andavano a rilento nell'arco di un giorno che una mia cliente è caduta in un tombino qui di fronte io ho denunciato tra virgolette la cosa parlando con queste persone hanno accelerato lavorando anche il sabato pomeriggio adesso la cosa più bella è che il 23 di dicembre da stamattina alle 9 hanno iniziato ad asfaltare qui davanti c'è un caos totale perché non si cammina i clienti non sanno dove fermarsi e di conseguenza io sono le 11.30 del mattino un incasso che è assurdo per l'antivigilia della vigilia di Natale ma perché fare questi lavori proprio nei giorni in cui tutti si spostano per gli acquisti natalizi Arturo Armenti che è il capocantiere insomma perché questa scelta di fare questo lavoro proprio oggi l'antivigilia di Natale abbiamo approfittato per la situazione meteo insomma per il caldo cioè la temperatura è molto importante di questo periodo per asfaltare per cui se avremmo aspettato oltre questa settimana quindi oltre oggi in pratica se si abbassano le temperature non sarebbe stato più possibile effettuare questo tipo di lavoro per cui insomma questa è stata la scelta che ci ha spinto a fare questo lavoro prima di Natale provocando un po' di disagi insomma ma i disagi abbiamo i vigili che stanno deviando il traffico e quindi cercando di creare stanno facendo in modo di creare meno disagio possibile però purtroppo è una strada tra l'altro è una rotatoria quindi non era possibile fare diversamente L'assestamento di bilancio non include come promesso dall'Aggiunta il capitolo di spesa per il servizio navetta del villaggio di Bonifra per il 2012-2014 a dirlo il consigliere regionale Nicola Cavaliere l'esponente di Forza Italia incalza l'assessore Nagni convochi al più presto le parti per l'immediata soluzione del problema ha disatteso gli impegni assunti in consiglio regionale ad aprile questo è un servizio di vitale importanza dice ancora Cavaliere che ha garantito il diritto allo studio di tanti ragazzi ha offerto la possibilità agli anziani sprovvisti di auto di poter raggiungere il centro abitato distante due chilometri per poter ad esempio acquistare i beni di prima necessità si aprono spiragli per la Irce Cavi di Guglionesi dove 92 dipendenti non verranno licenziati raggiunto in regione l'accordo per estendere dei cinque mesi la cassa integrazione in deroga sentiamo Fabrizio Occhionero più di 90 dipendenti rischiavano di perdere il posto di lavoro in una delle aziende più importanti del Basso Molise ora per gli addetti della Irce Cavi di Guglionesi si apre uno spiraglio per altri cinque mesi all'assessorato regionale al lavoro è stato raggiunto un accordo con l'azienda e i sindacati per estendere fino a maggio la cassa integrazione in deroga l'Irce presenterà la domanda entro la fine dell'anno per allungare il periodo degli ammortizzatori questo consentirà di discutere sul futuro della fabbrica cercando di individuare delle possibili prospettive di rilancio la cassa in deroga riguarda 82 dipendenti perché in 10 hanno deciso di accedere alla mobilità volontaria in sostanza andranno via dall'azienda dietro incentivi per Carlo Scarati segretario regionale Wiltec è stato centrato un obiettivo che segue anche le rivendicazioni dello sciopero generale abbiamo sollecitato l'assessore Petraroia affermato per velocizzare le procedure siamo riusciti a chiudere la mobilità evitando i licenziamenti da subito osservato Scarati bisogna lanciare una sfida per creare le condizioni per mantenere questa realtà produttiva e consentire a numerose famiglie diverse monoreddito di non perdere la speranza e di salvare i posti di lavoro tanto dipenderà dal mercato ha concluso il sindacalista ma molto di più dall'impegno che tutte le istituzioni hanno intenzione di assicurare in questa delicata vicenda I vaccini anti-influenzali Fluad posti sotto esame dall'agenzia del farmaco sono risultati sicuri a comunicarlo il direttore del dipartimento di prevenzione dell'ASRE ma anche l'agenzia europea dei medicinali a Londra ha concluso che non esiste alcun nesso causale tra i vaccini anti-influenzali della Fluad e i malori e i decessi segnalati e quindi definitivamente ha acclarato che non sia trattato né di un problema nel processo produttivo né di contaminazione del vaccino Adesso parliamo del caso di due studenti del liceo classico che hanno sostenuto l'esame di maturità e contestato il giudizio della commissione due ragazzi che oggi studiano all'università ma che hanno voluto portare la loro esperienza come esempio per la tutela dei diritti degli studenti ci racconta questa storia Giovanni Di Tota non si sono piegati hanno combattuto solo per dimostrare che avevano ragione e per difendere un diritto è la storia di due ventenni che hanno voluto reagire a un torto subito nonostante entrambi abbiano superato l'esame di maturità in maniera brillante ma come spesso accade burocrazia non fa rima con buon senso e il correttore delle risposte multiple che ora i ragazzi trovano all'esame viene ritenuto verità assoluta anche di fronte all'evidenza il caso di Francesca riguarda una risposta di fisica giudicata errata dalla commissione interna d'esame le impedisce di raggiungere la lode ma non il braccio destro di Margherita Hack che le dà ragione l'errore è del correttore ci tenevo proprio a sottolineare l'esistenza di questi errori che inficiavano la prova perché si è trattato appunto di una prova nella quale coloro che hanno risposto correttamente come per esempio io sono stati penalizzati e coloro che hanno sbagliato nelle risposte hanno invece visto in maniera del tutto ingiusta aumentato il loro il loro punteggio io credo molto nella giustizia io e Giovanni proveniamo da famiglie nelle quali la giustizia sociale è il pane quotidiano voglio augurarmi che questi episodi di cattiva scuola forse non si ripetano più perché le vittime principali sono i ragazzi sempre al liceo classico di Campobasso l'anno successivo tocca a Giovanni risposta in inglese contestata dalla commissione dopo una serie di passaggi il TAR conferma la validità della risposta dello studente e l'errore dei professori conclusione a Giovanni un ristoro di 2000 euro che però non è ancora arrivato la decisione finale ha stabilito che il giudizio era stato erroneo inoltre la stessa commissione è stata accusata di parzialità nel giudizio di sviamento e di eccesso di potere e soprattutto di precomprensioni nel giudizio e quindi ovviamente la mia prova è stata annullata e quindi ovviamente il TAR ha stabilito che la commissione si dovrà riunire per rivalutare nuovamente la prova seguendo però i caratteri direttivi che sono stati stabiliti nella sentenza io e Giovanni abbiamo continuato il nostro percorso scolastico però vi possono essere casi in cui i ragazzi ci stanno male a tal punto da non riuscire neppure poi a proseguire oggi Francesca e Giovanni sono due brillanti studenti universitari alla LUIS di Roma e alla Cattolica di Milano non è un capriccio il loro ma solo l'affermazione di un diritto è un esempio per tutti quelli che parlano di buona scuola ma poi difendono altri interessi e non quelli degli studenti Francesca e Giovanni saranno la nuova classe dirigente si spera quella del merito che soppianterà quella dell'arroganza e del sopruso e adesso parliamo di cinema perché un attore molto popolare interprete di tanti cine panettoni quelle pellicole che escono sotto Natale è arrivato ad Isernia per parlare con il pubblico del suo ultimo film che si chiama Di che segno sei è Massimo Boldi il servizio di Enzo Di Gaetà Massimo Boldi all'umir di Isernia per il lancio del suo ultimo film il cine panettone di che segno sei invitato dal gestore del cinema Isernino Mario Caruso Massimo Boldi si è come suo solito lanciato in una serie di battute simpatiche che ha mandato in visibilio decine di ragazzi presenti in sala vi faccio tanti auguri a voi alle vostre famiglie auguri al prossimo Natale ma passate bene questo Natale perché sarà un Natale fantastico su Di che segno sei Di che segno sette ciao ragazzi ciao a tutti Boldi una domandina per la stampa ma lei conosceva Isernia Isernia la conosceva sapeva aveva idea di cosa era Isernia come no Isernia la conosco benissimo è una città che fa un freddo della madonna mamma mia bisogna mettere sul capotto bisogna mettere su io sono venuto invece con il golf qui abbiamo dei ragazzi che portano un regalo un omaggio del Molise il tombolone il tombolone grazie eccolo qua guardatelo tutti insieme grazie eccolo qua questi sono i tuoi figli i tuoi figli poi qui c'è ma tu di che segno sei questo a noi questo lo facciamo lo facciamo qua allora bene firmo vado massimo Boldi ciao cipollini eccoli qua bene ragazzi io veramente avrei voluto rimanere qui ancora un po' di più con voi però ad esempio insieme a te io sarei divasto anche fino a domani mattina ma non posso perché devo andare via se no stavo insieme a te tutta la sera tu stai riprendendo con il con il l'iPhone ah che purbino che sei internet quelli che mi vogliono scrivere su Twitter oppure su Facebook tanto la mia pagina è Massimo Boldi e il Twitter è Massimo Boldi vi risponderò appena potrò a tutti quanti auguri grazie e viva Isernia e grazie come si chiama il tuo cinema? cinema Lumiere cinema Lumiere il cinema classico questo è il più bel cinema di Isernia ragazzi il cinema classico è l'unico ah è l'unico che figura di merda che ho fatto ciao ragazzi ciao ci vediamo per Mario Caruso gestore del Lumiere quello con Boldi non è che il primo degli appuntamenti con gli attori più famosi la sua idea di far lanciare film direttamente ai protagonisti facendoli venire a Isernia sicuramente sarà una spinta ancora maggiore per far apprezzare almeno un po' di più il Lumiere recentemente rinnovato con la proiezione digitale l'acustica stereo oltre che con poltroni più comode e domani è la vigilia di Natale nei paesi nei comuni molisiani si rinnoveranno tante tradizioni una delle più antiche è quella di Oratino la faglia il servizio pesa 20 quintali e per trasportarla nella piazza di Oratino servono le braccia di 55-60 uomini poi viene sollevata con delle funi e infine le si dà fuoco lasciandola consumare lentamente è la faglia una delle tradizioni legate al rito del fuoco che a Doratino rivive ogni notte di vigilia di Natale per salutare la nascita di Gesù Bambino 13 metri di canne all'esterno verdi all'interno secche accuratamente scelte per mesi poi pulite e lavate infine compresse insieme in fascine con un particolare martello di legno creato specificatamente per quest'uso si fanno dei cerchi praticamente di un legno che si chiama ornello che si trova nei boschi nei paraggi qua di Oratino anche e dopo di che vengono praticamente fatti questi cerchi di un diametro più o meno di un metro un metro e dieci dipende dalla grandezza che lo vogliamo fare noi diciamo dopo di che fatti i primi cinque cerchi vengono messi posizionati praticamente all'impiedi e ci vengono infilate queste canne in modo che si comincia a creare questo diciamo questo tubo questa enorme torcia di canne e dopo di che la fase successiva è la battitura vengono fatti dei piccoli facci di canne più piccoli per invilarli per farla continuare a crescere diciamo anticamente la faglia era ancora più grande da qualche anno si è deciso di arrivare al massimo ad un metro e dieci provengono da Argentina Brasile e Santo Domingo sono i componenti di Amscat un gruppo emergente che sta facendo furore sulla riviera romagnola e sul web con la musica latinoamericana la formazione ha fatto tappa a Isernia vediamo c'è poco da dire più passa il tempo più cresce la passione per i balli latinoamericani bastano poche note per invitare tutti a danzare e non solo i fedelissimi delle scuole di ballo lasciarsi trasportare dalle note diventa spontaneo se poi in pista si balla con la musica degli Amscat ci si diverte ancora di più dopo aver spopolato nelle discoteche della riviera romagnola all'estero e sul web con il tormentone Kamasutra Trado Brasil si ripropongono al pubblico con Mundo Loco abbiamo incontrato i componenti del gruppo durante la loro tappa Isernia è stato un grande successo siamo usciti a fine luglio sotto il marchio Sony quindi siamo molto contenti invece Kamasutra Trado Brasilia era con la Network e stiamo girando molto per fortuna anche su YouTube tante visualizzazioni e sta andando molto anche nella Zumba quindi che è quello che un po' muove il mercato musicale ultimamente le donne e la Zumba e niente il Mundo Loco ci porterà sicuramente avanti speriamo che funzioni bene in cantiere ci sono naturalmente anche altri progetti i prossimi progetti ci sono delle canzoni che stiamo facendo musica ausi brasiliana sempre lavorando sempre sulla parte della Zumba che è quello il mercato che va di più e niente il progetto un po' più ausi brasiliano diciamo dove si fa molti movimenti si lavora più con la gente anche si convoge più la gente verso il ballo della Zumba ma cosa hanno di speciale balli latinoamericani perché coinvolgono così tanto? è una musica semplice prima la musica è semplice e calda e la gente è super semplice non è un mondo molto complesso quindi la gente tutti quelli che vengono a ballare latino si sentono al loro agio subito quindi attrae per forza perché quando c'è amore c'è umanità la gente va proprio a su di quello e il divertimento soprattutto e anche sensuale ha capito lei e prima di chiudere parliamo ancora di musica con un appuntamento che è per questa sera alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso serata dedicata al gospel con il concerto di Camille Emmonsen Eiger Calling quindi l'appuntamento di questa sera era l'ultima notizia termina qui il nostro telegiornale delle 14 vi lascio alle previsioni del tempo e poi come sempre al nostro notiziario sportivo a più tardi buon pomeriggio a più tardi 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 Grazie.